Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Quindi sono muscoli quello che vediamo al confine con la Finlandia, la minaccia di mettere a Kaliningrad che è un enclave che guarda la Scandinavia ma lambisce anche la Polonia e i paesi baltici delle armi nucleari quando sarebbe denuclearizzato? Allora intendiamoci l'escalation nucleare fa cambiare completamente l'ordine proprio di idee del conflitto direi ma finché restiamo nell'ambito di un conflitto convenzionale la Russia non ha la capacità di attaccare un singolo paese della Nato per cui se io fossi finlandese mi verrebbe da dire certo sotto l'ombrello Nato sto al sicuro. Chiaramente se si passa a ragionare in termini di minaccia nucleare cambia tutto e questo però fa fare un salto di qualità veramente al confronto tra Nato e Russia che al momento io ritengo inimmaginabile davvero.